Siddharta e il ruscello Siddharta rimase per qualche momento a pensare al perché la vecchietta non avesse attinto all'acqua dal ruscelletto che passava pochi metri dal suo orto Non valeva la pena di pensarci troppo, visto che la donnina era portata di voce Mia signora, chiese Siddharta, perché mai portate l'acqua per il vostro orto da così lontano? La vecchietta rispose Da quando il pozzo di mia sorella si è asciugato ho dovuto cercare un altro pozzo ed è molto più lontano e mi tocca dargli una parte della verdura del mio orto per potervi attingere Ma, aggiunse Siddharta, perché non attingete all'acqua l'acqua al ruscello qui accanto? E la vecchietta rispose Perché a monte vi attinge un miscredente